Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi torno con uno dei miei video preferiti, che è quello in collaborazione con il gruppo Piccoli Canali Power, cioè gli acquisti naturali del mese. Vi parlerò degli acquisti naturali del mese di ottobre, ma prima voglio salutare tutti quanti i componenti del gruppo, quindi saluto Martina, Gian Giuseppe, Giulio, Rossella e Valentina. E quindi procedo subito a mostrarvi cose. Allora, ho acquistato un bel po' di prodotti dei Provenzali, perché erano praticamente quasi tutti in offerta. Ho voluto riprendere il contorno occhi biologico della linea Provenzali Bio, questa è la rosa canina. L'ho acquistato perché penso abbia cambiato formulazione rispetto a quando io lo provai la prima volta, ormai penso almeno 6-7 anni fa, quando uscì questa linea. All'epoca lo trovai un po' leggero, penso però che comunque nel frattempo sia cambiata la formulazione, perché è cambiata un po' tutti quanti i prodotti, c'è anche scritto nuova formula, non è che lo penso, l'ho letto. E quindi lo vorrei provare. Questa è idratante anti-borse, io più che le borse, c'è anche un po' di borse, però ho prevalentemente le occhiaie, però tra borse e occhiaie, insomma così, soprattutto da quando sono mamma, i miei occhi sono particolarmente provati e quindi vediamo un po' se questo mi aiuta. Ricordo comunque che è un tipo di prodotto fresco e ho bisogno di qualcosa che rinfreschi un po' il contorno occhi. Ho ripreso poi il latte detergente biologico, sempre il prodotto di questa linea alla rosa moscheta, delicato. L'unica cosa, e lo sto utilizzando in questo periodo, però profumato di cioccolato, io non capisco che cosa sia successo a questa linea, ha cambiato profumazione più di una volta. All'inizio il packaging non era così, ma la profumazione era fresca, di rosa, non era una rosa stucchevole, l'anziana era una rosa fresca, buonissima, delicata, che a me piaceva da impazzire. Hanno cambiato formulazione, hanno cambiato packaging, hanno cambiato profumazione. Provenzali, perché lo avete fatto? Non sempre il cambiamento è una scelta giusta, è l'anima della vita, però a volte se uno rimane fedele a se stesso è meglio. Non mi piace l'odore, sa di cioccolato quando mi lavo la faccia, a parte che mi viene voglia di mangiare il cioccolato, e poi mi sento questo odore addosso che non mi fa impazzire. Poi ho preso sempre dei Provenzali, sempre in offerta, la saponetta vegetale Altitri, con antibatterico naturale, adatto a tutta la famiglia, detergente e igienizzante. Non tanto per questo periodo Covid, eccetera, ma perché siamo sempre con le mani in mezzo alla terra, gli animali, i gatti, soprattutto Sofia, tocca ai gatti, il cane, le castagne, i figli per terra spiaccicati, e poi fa merenda, Sofia, lavati le mani con la saponetta igienizzante. Ok che devono fare anticorpi sti bambini, però, fino a un certo punto. Poi l'olio corpo numero uno in Italia, l'olio di mandorle dolci, puro senza profumo elasticizzante, mi piace tantissimo, sapete che è il mio olio di mandorle dolci preferito, anche questa era in offerta. Queste offerte a questo sapone ci sono ancora, quindi io vi consiglio se volete provare i prodotti Provenzali, o se già li conoscete e volete acquistarli, di andare a provarli. E poi anche questo sapone di Aleppo, delicato e purificante, questo ancora non lo apro, l'avevo già acquistato in passato, mi era piaciuto, profumazione buonissima, profumo, lo sapete, il sapone di Aleppo è insomma sapone di alloro con olio d'oliva, anche questa era un'offerta e ho acquistato anche questo. Praticamente è tutto un olio dei Provenzali, potevo fare un video dedicato ai Provenzali, facevo prima. E poi lo shampoo per Sofia, per il nuoto, perché quando l'accompagno a nuoto due volte a settimana, naturalmente poi Sofia fa la doccia in piscina. Ho deciso di prendere questo liquido perché quello solido le secca troppo i capelli, c'era troppo delicati, qualsiasi shampoo, insomma preferisco comunque liquido, anche perché è più veloce e più comodo, lei che non ama stare sotto la doccia. L'ho preso perché ha fracone di plastica 100% riciclata, bravi, Provenzali, e perché è miele vegetale e camomille extra dolce per capelli chiari, le capelli biondini. L'ho provata anche una volta, mi è piaciuto, ha una buona profumazione. Poi vi parlerò un po' dei prodotti che sto usando per Sofia per la piscina, perché questa combinazione di prodotti, cioè lo shampoo e la spuma Giada, praticamente ha lo stesso profumo del gelsomino indiano dell'erbolario. O io sto pazza, ho qualche problema al naso, oppure quando torno dalla palestra comunque le annuso la testolina e sento questo odore, questo mix di prodotti, non lo so. Poi ne parleremo in un altro video così mi aiutate voi a far pace col cervello. Poi ho preso, questo è già aperto perché Sofia ha dormito una notte dai nonni, dai nonni paterni, e quindi le ho fatto portare il suo spazzolino di bambù, quello tutto colorato con i colori dell'arcobaleno, e questo mini dentifricio piccolissimo di questa marca biologica che si chiama The Humble Co, che ho già provato in passato, in passato, mesi fa. Mi piace, è una menta molto molto leggera, naturale, questo mi pare abbia fluoro all'interno. E è uscito questa mini size con lo spazzolino al bambù, che però ancora non utilizziamo, in questa piccola confezione. Mi dispiace che sia di plastica, non so se è plastica riciclata, sì, lo spazzolino, no, 100% riciclabile, il manico in bambù, però questa plastica non so se è riciclata perché non ho letto bene. Fatto sta che c'è in offerta da Quessapone questa combo di prodotti, così se volete provare anche il dentifricio, avete l'opportunità di provare una mini size. Per Sofia è stata comodissima perché appunto a lei piacciono queste cose minuscole, si è portata lo spazzolino suo e questo è stata super super contenta. E basta, siccome ho a malapena un minuto di tempo per salutarvi, per chiudere il video, questi prodotti make-up ve ne parlo in un altro video, casomai con una faccia del giorno oppure con Get Ready With Me. Saluto tutti quanti i miei compagni e amici del gruppo I Piccoli Canali Power, naturalmente vi metto tutti quanti i link di tutti quanti i canali nell'info box, così li ritrovate velocemente. Saluto tutti, con un bacio grandissimo, tutti quanti i miei amici del gruppo e anche voi, e vi consiglio naturalmente di andare a seguire e a vedere anche i loro video. Vi mando un bacio grande, ciao, al prossimo video.